È un agrofondo che ha un cortorno eccezionale con l'Italian Bike Festival. È una bella occasione per ritrovarsi col mondo del ciclismo. È un evento molto importante, molto grande, che offre la possibilità di vedere le novità del mercato del ciclismo. È occasione per ritrovarsi. Manuel, tu naturalmente hai pedalato ad altissimi livelli, ma qual è l'emozione di pedalare dentro un autodromo? È bello passare dove corrono i piloti della MotoGP. È qualcosa di eccezionale.